Il mondo della lirica, come d'altra parte, tutti gli ambienti artistici è difficilissimo e quindi ogni momento in cui ci si espone è un momento di vita o di morte e l'adesso è ora ed è solo quel momento lì, è questione di vita o di morte sempre in questi momenti. La musica ha una serie di aspetti nella mia vita che vanno a toccare qualsiasi cosa. Grazie.